Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Goreltanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Nella Terra di Steep, quindi in Minecraft. Oggi ci sono delle novità fantastiche e ora ve le faccio vedere. Una l'avrete capita da titolo. E che cos'è? La nostra farm di Selce. Mi chiederete, come si fa a fare una farm di Selce? È molto semplice, qua c'è un ragno e lo uccido anche se è giorno, non mi fa niente. Ma che cavolo? Lag da paura. Allora, questo circuito l'ho creato per controllare le botole. Ok? Questa si apre più velocemente e si chiude più velocemente in modo da potermi permettere di andare qui, senza cadere giù. Mentre le altre mi devono permettere di scendere all'interno del buco. Perché è fatto così ve lo faccio vedere subito. Adesso ci entro. Voilà. Il funzionamento è questo. Si fa una pila di ghiaia, quindi poi dopo noi, una volta fatta la pila, saremo lassù. Ci facciamo cadere e poi da qua in fondo si toglie tutta questa ghiaia, prendendo l'ultimo. Ho messo l'acqua apposta che viene da questa parte qua, in modo che io me ne sto fermo qua, distruggo tutta la ghiaia e la Selce e la ghiaia che invece non viene trasformata in Selce ritorna a me. Vi faccio vedere. Ora la prendo e... Ma ogni tanto si bagga, ma non importa. Vedete già? Sono arrivati due pezzi di Selce, ho visto. La ghiaia che rimane poi dopo la rimpilate e funziona così. Perché ho fatto questo buco verso il basso e non verso l'alto? Perché chiaramente si può fare verso l'alto la pila. Perché è più bello ed è meno, diciamo, esteticamente disturbante per tutto il paesaggio che c'è attorno. Ora vediamo quanta Selce ho preso. Sette pezzi di Selce. Qua vabbè, se sali, arrivi poi alla spiaggetta, ma non è l'importante. Adesso ci mettiamo qua, chiudiamo la porta e con la ghiaia ci mettiamo a fare il pillar, in modo da poter poi successivamente, quando abbiamo voglia, riprendere a utilizzare la farm di Selce. Ora, non è una cosa difficile, è proprio il principio con cui si forma la Selce. L'ho fatto in modo da semplificare le cose, visto che la Selce poi serve per fare le frecce. E infatti io in queste puntate mi sono adoperato per prima creare la farm di polli, che creerò nelle prossime puntate. Se vi ricordate, l'ultima volta sono andato nel Nether a prendere il quarzo per poi fare la farm di polli. E poi, adesso mi sono adoperato per fare la farm di Selce per poi fare l'altra parte della freccia. Ora, un dilemma è questo. Io devo fare una struttura attorno alla nostra piccola farm di Selce per non farla sembrare solo un piccolo misto di circuiti. Voglio farla sembrare qualcosa di bello, di quasi armonioso con il nostro paesaggio. E ora vi chiedo, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag io ti suggerisco, ok? Hashtag io ti suggerisco, scrivendomi cosa volete che costruisca attorno a questa piccola farm. Inoltre, a tutti quelli che scriveranno hashtag io ti suggerisco, io personalmente andrò nel suo canale a vedere com'è e se ne mi piacerà mi iscriverò. È un bel compromesso? Spero che lo facciate intanto. Ora vi faccio vedere l'altra importante novità. Oltre ad aver fatto la farm di Selce che mi è stata gentilmente consigliata da un mio amico, Madjack, quello con cui ho fatto il video di FIFA, vi metto il link in descrizione, ho trovato un'altra cosa importantissima. Vi ricordate la caverna dove nell'ultima puntata siamo andati a minare? Benissimo. Torniamo verso quella caverna, ma questa volta non andiamo in fondo verso il livello 11, ma rimaniamo a un livello abbastanza alto. Bug. Bug, bug, bug. Sì, belle caverne sotto, ma a me interesserebbe andare verso di qua. Dicevo, non andiamo così in basso, non andiamo verso il livello 11, ma andiamo verso che livello siamo? 40. Comunque rimaniamo abbastanza alti. Vi chiederete perché, cosa c'è di tanto importante. Ebbene, questa è una specie di anticamera, ho trovato uno spawner di scheletri. Voilà, guardate che bello. L'ho trovato a caso, minando, andando qua in giro, perché ho esplorato tutte le caverne qua intorno, tutte. Ho fatto qui una piccola base, in cui mi riparavo dagli scheletri, perché erano tantissimi, e per questo ho l'arco incantato, perché me l'ha droppato uno degli scheletri, io poi dopo l'ho riparato, e me lo tengo, finché non avrò gli incantamenti. Che sarà una delle cose che faremo tra un po'. Prima dovrò fare la farm di polli, dovrò utilizzare lo spawner di scheletri per fare la farm, e dovrò, beh, possibilmente anche fare la farm di mucche, perché ho trovato delle mucche davanti casa molto più avanti, ma sono poche, quindi non mi basteranno per avere la pelle per fare quei libri. E poi una cosa che dovrò fare, ma, cioè, sono mille cose da fare, sarà la casa. La casa è una cosa importante. E un magazzino. Vabbè, ma non divaghiamo. Ho trovato questo spawner di scheletri. Lo utilizzerò nella prossima puntata, oggi ve l'ho solo fatto vedere, ma una cosa che ho trovato sono i semi di barbabietole. Io ho già svuotato queste casse, chiaramente, e ho lasciato solo i semi, perché li voglio utilizzare per fare, appunto, una piantagione di barbabietole. È la cosa che andiamo a fare subito. Perché, se vi ricordate, io ho le piantagioni di grano, angurie, zucche e patate. Le barbabietole mi mancavano. Adesso non mi ricordo cosa si può fare con le barbabietole, nel senso che si possono mangiare direttamente se bisogna fare, forse, la zuppa. Non me lo ricordo, perché non è un cibo che io ho mai utilizzato, in realtà, in Minecraft. Però, avercelo è un valore aggiunto, perché è un'altra fonte di cibo, che cresce contemporaneamente a quelle che già ho, e poi, fa figo, oggettivamente, avere tanti tipi di cibi. Ora, sta per calare la notte, ci vediamo quando è giorno. Ragazzi, ma, quanto sarebbe figo avere le litri, e poter girare per il mondo. Ma, ragazzi, oggi è tutto così. Oggi è tutto buggato. Dicevo, poter girare per il mondo volando, sarebbe una figata pazzesca. Però, vabbè, non chiediamo troppo. Va bene, dove pensavo di fare la piantagione? Visto che qua ci sono le patate, qua, le angure, le zucche, di là, il grano, potremmo farla, fuà, sì, dietro, esattamente dietro, al nostro, granaio. direi di fare una roba di questo tipo. Fare un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, sì, farlo come quello lì. Voilà. Lasciando qua in mezzo, ho sbagliato, sono uno, due, tre, quattro, cinque, un, due, tre, quattro, ah, mancava qualcosa. Per vinci. E lasciando questo vuoto. Ora col secchio vado a prendere un po' d'acqua, tac, la metto all'interno della piantagione, in modo che, come vedete, non muoia tutta la mia farm. Riaro. La la la, la la la, ci siamo. Dopodiché, pianto le barbabietole. Le pianto, e non ci accontentiamo solo di piantarle. Vado a prendere anche del bon meal che ho messo via, bon meal che ho messo via, vado a prendere quindi della farina d'ossa, chiamiamola così, che ho all'interno del granaio. Ora utilizzo questo, questa farina d'ossa per far crescere le barbabietole, così vediamo anche come sono, perché, come ho detto, non è uno dei quei cibi che io ho mai utilizzato. Ah, ok, sì. Ho, ho presente, ci sono sempre nei villaggi, che io non ho ancora trovato. Dai. Ci mettono un sacco a crescere. Ok, ho utilizzato 19 pezzi di bon meal. Ora, raccogliamo. Voilà. Ah, vedete, sì, il ricettario mi dice che posso fare la zuppa di barbabietole. Mi sa che ho bisogno della crafting table. Ora, vorrei dare un'occhiata. Tac. Eccola qua. Zuppa di barbabietole, perché ho bisogno di una ciotola. In ogni modo, è un nuovo tipo di cibo. È un tipo che non ho mai utilizzato, ma che non disdegniamo mai. Ora, vi piantiamo questi dieci semi di barbabietole. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si so che andrebbero piantati dove è già bagnato, perché crescono più velocemente, però in questo caso ho deciso di non farlo. In ogni caso, adesso metto all'interno di questa cassa le barbabietole già pronte, e guardate quante uova pronte per essere sparate all'interno della farm di polli. In ogni caso, io vi dico che per questa puntata è tutto. Non abbiamo fatto molto, ma vi ho fatto vedere la farm di selce che YouTube Italia non ho trovata. È una cosa banalissima, ma può servire. Vi ho fatto vedere il mio nuovo spawner, vi ho fatto vedere la nuova piantagione di barbabietole, e nella prossima puntata utilizzeremo lo spawner di scheletri per farci una farm di scheletri. Vi ringrazio tanto per la visualizzazione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, spero che abbiate commentato, vi auguro una buona continuazione, e ciao ciao belli, ciao ciao! Ciao!